L'emergenza coronavirus ha mostrato quanto sia fragile in Calabria la rete sanitaria territoriale, necessario un potenziamento e proprio per questo si è svolto un incontro che ha visto i protagonisti del Presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, il Commissario della Sanità, Guido Longo, e la Sottosegretaria per il Sud della Coesione Territoriale, Dalila Nesci. Uno dei passaggi chiave è la realizzazione delle case della salute che, previste nel piano di rientro, nei fatti non sono state mai realizzate. Per il programma di adeguamento edilizio funzionale e tecnologico delle sei case della salute della Regione, ovvero Chiaravalle, Mesoraca, San Marco Argentano, Cariati, Scille e Siderno, in forte ritardo di attuazione, sono previsti fondi per circa 50 milioni di euro. Realizzato anche un report sullo stato di attuazione del programma. Secondo i dati forniti, i lavori delle case della salute di San Marco Argentano e Cariati, in provincia di Cosenza, dovrebbero essere ultimati per aprile 2023. A giugno del 2023, invece, dovrebbero essere ultimati anche quelli relativi alla case della salute di Mesoraca. Due mesi più tardi dovrebbe essere la volta delle strutture di Siderno e Scilla. Per quanto concerne Chiaravalle, invece, l'ultimazione è prevista per aprile 2024. Grazie.